Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi come ogni giorno in tempo reale la soluzione per il fortbite Oggi il numero è il 58 e ci chiede di utilizzare l'emote trombone sfigato nell'estremo punto nord di spiagge snob Ragazzi attenzione a non sbagliarvi e andare all'esterno di spiagge snob dove c'è il punto della mappa Ma quello invece è il punto ovest il punto all'estremo nord come state vedendo è proprio nella casa dove è stato distrutto tutto Numero 58 lo andiamo ad utilizzare cercando intanto Lo andiamo ad utilizzare! E' qua comunque! Non riesco a prenderlo! Non lo riesco a prendere! Ti prego utilizzalo! Ti prego utilizzalo! Sì! Il numero... Eccolo! 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 Il numero 58 è qua ragazzi! Lo raccogliamo! Se ce la facciamo... No! Io vi ringrazio per aver guardato questo video! Un bel like! Iscrivetevi al canale! Noi ci vediamo tra pochi minuti in live! Ciao!